Professor Michele Marullo, oggi una giornata importante al liceo classico di Pescara perché si consegna un apparecchio utile per un ipovedente. Sì, una giornata unica nel suo genere perché elettivamente è dedicata ai pazienti meno fortunati, quelli ipovedenti. L'ipovisione è un'affezione estremamente grave che limita fortemente le attività di giovani, adulti o anziani. In questa giornata abbiamo dedicato la possibilità di poter dare da parte della ASL una apparecchiatura di ultimissima generazione a un ragazzo disabile molto sfortunato ma che ha delle capacità intellettive e psicologiche talmente superiori da poter accettare questa sua disabilità e poter migliorare la sua qualità di vita attraverso questa strumentazione di ultimissima generazione. Di che apparecchiatura si tratta? Si tratta di un computer che bene si interfaccia con quelle che sono le attività quotidiane attraverso cui può esprimere in maniera molto più precisa e più ottimale le sue necessità che possono essere da quelle più banali a quelle anche più specifiche per cui può fare delle richieste che altrimenti non gli sarebbero possibili così come può anche valutare meglio la sua attività su internet e quindi essere multidisciplinare. Per questo ragazzo sarà un Natale diverso? È un ragazzo che conosco molto bene ed è speciale, è un ragazzo estremamente intelligente, supportato e questo è fondamentale da una famiglia che gli dà tutti quanti i supporti possibili e immaginabili per poter essere integrato totalmente. In più ho visto che c'è una classe estremamente attenta, dedita all'affetto e alla stima e alla collaborazione nei confronti di questo ragazzo e questo è un altro valore aggiunto che gli consentirà di avere una qualità di vita ottimale.